Il centro-sinistra critica la giunta Masci sull'aumento della COSAP, ma si parla in queste ore anche d'Italia. Andiamo per ordine, partiamo dalla COSAP. Un aumento per voi ingiustificato? Sì, nel senso che intanto il primo gesto politico fatto da questa giunta è stato un aumento del 10-12% sul canone per il suolo pubblico, che pagano migliaia di pescaresi, sia come passo carabile, sia come bar, ristoranti per il suolo pubblico, appunto fuori da questi locali. È un aumento che scarica tutti insieme 10 anni all'aumento ISAT. In questi 10 anni sia il centro-destra che il centro-sinistra avevano appunto congelato a questi aumenti perché c'era la crisi. Quindi evidentemente per la giunta Masci la crisi è finita. La realtà è un'altra, cioè i locali stanno ancora molto molto in crisi, le famiglie stanno ancora molto molto in crisi, eppure si torneranno appunto a pagare decine e in alcuni casi centinaia di euro in più all'anno perché è stato scelto che all'improvviso tutto insieme deve essere appunto scaricato 10 anni di aumenti. In più, passiccio nel passiccio, si è scelto di far sì che questa scadenza del 31 gennaio, in cui appunto si pagava la COSAP, quindi il suolo pubblico, verrà appunto slittata al 31 di marzo che combacia con la scadenza della Tari, cioè le famiglie pagheranno insieme Tari e COSAP e che per un'attività economica vuol dire pagare migliaia di euro tutte insieme, ma questi non sono le Bancomat. Cosa proponete? Proponiamo di rivedere queste libra, anzi che la ritirassero queste libra che davvero è un passiccio. Noi speravano che nessuno si accorgesse probabilmente perché stavate in sordina senza dirlo a nessuno, senza rivolgere le categorie economiche o le famiglie in un modo davvero molto antipatico. Quindi che si ritrasse queste libra, si rivedesse il modo di applicare questi aumenti ISAT gradualmente, non tutti quanti insieme e ovviamente non con la scadenza che combacia con la Tari nel caos di queste settimane su la Tari che davvero vuol dire chiedere ai piascheresi di pagare centinaia di euro tutti insieme, crediamo che sia davvero una cosa da cambiare assolutamente.